Oggi è venerdì e anche oggi vi voglio consigliare un libro. Un libro riguardante la vendita. Tema a noi tanto caro, a noi agenti immobiliari, ma che credo possa essere utile a chiunque perché sapersi mettere nelle migliori condizioni rispetto a un colloquio di lavoro o a dei rapporti personali è un qualcosa di utile sempre. Inoltre vendere significa ascoltare. In questo libro poi in particolar modo, che è il libro di Goldman, l'arte di vendere, in questo libro vengono fatti sia tanti esempi pratici e subito calabili nell'attività di ognuno di noi e contestualmente vengono fatti dei veri e propri esercizi o esempi per lo sviluppo della capacità di ascolto. Se dovessimo mettere in percentuali quanto bisogna ascoltare e quanto bisogna parlare, beh, dividerei 70% ascolto e 30% parlare perché solo ascoltando i veri bisogni di un cliente, di una persona, noi possiamo veramente calarci nel suo punto di vista e dare le giuste soluzioni. E allora buona lettura, buon weekend a tutti voi, io resto produttivo.